Sorpresa, il tuo regalo di compleanno. Nonna, perdonami per il dolore che procurerò a te e a tutta la famiglia. Voglio bene a tutti. Quando tutto sembra perduto, c'è solo una cosa che rimane ferma, immutata, solida, a cui ti puoi aggrappare. La famiglia. In apărarea fiului. Sâmbătă la TV2.